Anche quest'anno sono state adottate da parte del Comune di Fano delle misure restrittive e di carattere straordinario, finalizzate a governare in modo incisivo l'utilizzo delle risorse idriche disponibili della città, al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per l'uso alimentare, domestico e igienico. A tal proposito, il primo cittadino ha diramato in data odierna un'ordinanza che prevede il divieto con decorrenza immediata fino al 30 settembre prossimo di prelevare e di consumare acqua derivata dal pubblico acquedotto per le attività di irrigazione, una fiatura di orti, giardini e prati, con eccezione nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 22 alle ore 24, il lavaggio di aree di cortili e piazzali, il lavaggio privato dei veicoli a motore, il riempimento di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino e per tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico e per l'igiene personale. Per l'occasione saranno predisposte efficaci misure di controllo da parte di Aset S.p.A. e dalla Polizia Locale. Inoltre, la mancata responsabilità per eventuali inadempienze alla vigente ordinanza, aggiunge il sindaco, saranno sanzionate.